Non l'unico naturalmente, però le sue idee erano grandi. Lui ha messo, ha fatto il logo del club cinematografico, ha fatto il montaggio in macchina nella sua invenzione. E poi come persona è un tipo allegro, dinamico, la condizione era una persona brava. Io mi onoro me stesso di essere stato mio amico. In un modo lui non era l'unico franzo, perché di grandi ce ne sono notte di sangue di Alessio Sarri, Miramar di Gavito Balder, tutti così, di Rodovico Cazotto, da Venezia con amore, della signora Monico, Maya Monico. Erano solo dei bravi cinematografici. E poi, devo dire, non so neanche io che cosa devo dirti, perché ho avuto dei bei ricordi del Cine Club, e tante volte c'erano anche delle discussioni, normale, però tutto insieme era sempre tutto positivo. E con questo, spero che adesso basti, per me va tutto bene. Un caro ricordo a nostro caro buon amico Renato Paolo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Io andavo in cerca di un mio amico, questo mio amico ha la mia stessa passione, però purtroppo lì non è più. E adesso volete ascoltare qualcosa, qualsiasi cosa che fa parte del cinema. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.